Oggi ci buttiamo di qui dal gabbiano che davanti ora non si vede ma c'è una bella striscia bianca che esce fuori dal di ardenza, acqua comprida. Però il mare è bello, la giornata è bella, se ne si stanno con l'auro, non si parisce un sacco di freddo. Andiamo a vedere cosa ci da questo mare. Grazie. 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 Grazie.